Peppa, che c'è? Amore, quanto sei dolce! Il fratellino cosa fa? Ti rovina il fiocchettino? No, Tristan, aspetta, ora facciamo il filmato a Peppa. Adesso è lei la protagonista. Non masticare il fiocchettino, no! Come sei dolce, piccina. Quando verrai adottata? Sei stata salvata dalla pineta e non certo per rimanere in canile. Che ti combina il fratellino? No, non si fa, non si fa, non lo rovinare, è così bella. Così bella. Ciao Peppa, amore. Ciao, ciao, ciao amore, sei dolcissima. Ciao.